Progressivamente in tre anni sono transitati di qui quasi 5.000 persone ricoverate, di cui 1.500 con il Covid, ma ce ne sono state 3.500 che il Covid non ce l'avevano. E quindi questo è un punto d'orgoglio, perché sappiamo bene che durante il 2020, soprattutto, quasi tutti i reparti malattie infettive facevano unicamente Covid, invece noi siamo riusciti a fare, devo dire, anche tutto il resto e questo è un punto d'orgoglio, perché le malattie infettive sono tante e, come dire, non c'è soltanto il Covid. E poi la produzione scientifica, per la quale devo dire grazie alle 92 persone che lavorano con me, donne e uomini che da tre anni lavorano costantemente, anche per quella parte importante che un professore universitario deve avere, non solo la parte di assistenza, ma anche quella della didattica, cioè dell'insegnamento e quella della ricerca. Oltre 22.000 citazioni su circa 450 lavori pubblicati in tre anni nella banca dati di Panmed, che sono le riviste scientifiche tra pari. Quindi devo dire grazie, grazie, grazie soprattutto alle persone che fanno parte di questo straordinario gruppo.